Ogni nerd che si rispetti ha qualcosa che lo fa sussultare e se nel vostro caso vi sciogliete per le statue che ci presenta regolarmente il nostro collezionista Andrea Battle, tenetevi forte! XM Studios, un vero e proprio studio di design di Singapore per oggetti da collezione, ha aperto un nuovo flagship store in Thailandia con collezioni premium di state pregiate in mostra e in vendita. Non importa che siate fan di Sea o Marvel, Transformers o Hello Kitty, non rimarrete delusi. All'ingresso si viene accolti da due delle statue più ambite dai collezionisti appassionati di Iron Man, Hulkbuster e War Machine Tank, due veri capolavori di scultura e painting. Signori per favore state indietro! Poi è la volta del mondo DC Comics, con Batman, Wonder Woman, Joker, Robin, Bizzarro, Harley Quinn e molti altri, esposti in una stanza con illuminazione futuristica. Bene bene, hai seguito il mio consiglio sulla teatralità? Alla lettere! Per non parlare del piano superiore, in cui si apre una galleria impressionante con le ultime creazioni dello studio, come Spider-Man simbionte e Thanos in compagnia di Lady Death. Con le sei gemme mi basterebbe solo schioccare le dita. Cesserebbero tutti di esistere, io la chiamo Pietà. Subito alle loro spalle troviamo un trittico di statue in scala 1 a 3, con Magneto, Thor e Hulk. Optimus Prime e Megatron si trovano invece in un'area separata dedicata ai Transformers, sia in versione robot che in versione automezzo. Il mio nome è Optimus Prime. Anche se lo spazio ricorda facilmente un museo esclusivo, l'ingresso è gratuito. Ma se volete portare a casa queste opere d'arte o preordinarle, preparatevi a sborsare cifre importanti. Andrea sarà tornato a mani vuote? Dopo una visita di tre ore, pensiamo proprio di no.